Salve a tutte e tutti, a tutte e tutti i miei amici di Spreaker e di YouTube, qui è il vostro San Ten Chan che vi parla per fare una trasmissione in diretta, dal vivo e a reti unificate. Sta accadendo la notte ed è per questo che con la mia vecchia webcamera il video vendrà scarsino, però non mi scordo mai di comunicarvi le mie buone notizie e in questi giorni ho trasmesso un video, forse ieri sera, in YouTube che si titola, per chi lo voglia vedere, San Ten Chan cerca un editore che pubblichi i suoi libri. Allora ho ricevuto dei buoni consigli da Ambrogio Del Pata, Nicola Franceschi che mi dice, ciao oggi non conviene più pubblicare in cartaccio perché l'editoria è soffocata dagli sciacalli dell'on demand, gli scrittori della nuova generazione pubblicano al massimo un libro ogni 5 anni e passano il resto a fare reading al festival o a creare audiolibri. Perché non fai un audiolibro di quello che scrivi tu può essere interessante? Ecco, io vi domando a tutti voi, come si fa reading per guadagnarci? Perché io sono disoccupato e vorrei scrivere libri. E come si fa un audiolibro? Io non ho idea. Quanti di voi mi potrebbero dire qualcosa? Sono pregati per favore a dirmelo. Perché non fai un audiolibro? Mi dice Nicola Franceschi di quello che scrivi tu può essere interessante. Forse sì, ma non so dove pubblicarlo l'audiolibro perché se no magari ti copiano l'idea, ti copiano il racconto e lo vanno a raccontare in altre parti. Comunque poi c'è anche lo stesso Nicola Franceschi che mi dice i guadagni sono pochi, oggi nessuno vive di scrittura. L'editoria è in crisi e non ci sono più lettori. Lo scrittore fa almeno un altro lavoro per poter vivere. Io ti consiglio di registrare con la tua voce la lettura delle prime pagine e metterle su YouTube. Non tutto il libro, se no ti copiano. E poi mandi il link per le mail alle casse di ricicci. Altrimenti c'è lulu.com che è gratuito però a pochi lettori. E quindi, come dire, io qui mi rivolgo a tutti voi. Come si fa un audiolibro? Io sono nuovo di questo, anzi sono vecchio, nel senso che per me è già un libro digitale che poi è una forma di chiamare anche un archivio di nota o per esempio un wordpad, un notepad, un archivio pdf. Sono tutti libri digitali. Archivi di testo di vario formato. Io ero rimasto a quello. Certo, avevo ascoltato degli audiolibri di letture di Alan Watts, però in realtà sono esposizioni sue, di Alan Watts stesso. Ma come si fa un audiolibro? Cioè, magari io adesso come mi sto caricando in Spreaker e in YouTube potrei avere ascolto. Allora mi invento delle storie? Certo, se sono dei racconti li devo inventare. E poi li racconto. E quando c'ho audience, prima o poi qualcuno mi dovrebbe pagare. Ma il problema è che non sempre è così automatico. Quindi è un momento che si sta oscurando troppo qua. Vado a prendere una cosa. la lampada di Aladino. Fiat Lutz. Che sembra un brillo per scarti. Ecco qua. Si vede un po' meglio. Allora. Sono tutte cose serie di un intellettuale queste. Ecco qua. che serve leggere tanto. Vando alle ciance. Però ecco, come vedete, per me i libri sono sempre stati la lettura. I libri è una passione tutta la vita. Le videocamere invece, le web camere no. Ecco se spiega perché mi risparmio tendendomi questa videocamera che è una chiavica. però ecco, vedete i libri. Così. Vedete anche dall'altra parte. Cioè, da questa parte lì. Vediamo un po'. Al contrario. Ecco qua. Da lì alla... leggere mi è sempre piaciuto. E quindi vorrei condividere... Adesso spiego per gli amici di Spreaker. Da lì alla questo, quell'altro. Che cos'è? Tutti quei versi che ho fatto prima. Beh, prima mi filmavo a me stesso. Quindi lo potrete vedere in YouTube. E poi indicavo i libri dietro di me nella biblioteca. A me sempre leggere mi è piaciuto, anche perché non riuscivo a trovare cosa scrivere, che io sempre sentivo di dovermi esprimere molto. Però attraverso la lettura cercavo di canalizzare le mie idee. Quindi ho letto più di quanto ho scritto. Anzi, non ho quasi scritto niente, ma ho letto moltissimo. Quindi avrei di cose da esprimere. E niente, se qualcuno mi può spiegare come funziona l'audiolibro, io comincio a fare sto audiolibro. Certo, mi piacerebbe stampare cartaceo, perché io adoro i libri, ma gli audiolibri sono magari un qualche cosa di buono per i ciechi che non possono leggere i libri. Oppure, ecco, i libri digitali. Io preferisco libri di carta, anche se bisogna dire sono sempre più cari e la gente c'è sempre meno denaro. Quindi non è vero che la gente non legge o non vuole leggere. Se gli metti un libro a 100 euro, chi lo compra? Poi magari o ci sono i classici di cui ti puoi fidare, oppure i nuovi scrittori non sai come scrivono. Magari scrivono quello che tu stesso pensi. Non è il mio caso, perché comunque so, chiunque tu sia, non puoi pensare come me. Se guardi i miei video, ecco, è difficile che qualcuno faccia i video come li faccio io. Non perché li faccia meglio, sono singolari. Quindi io non ho una scrittura migliore, ce l'ho singolare, ce l'ho diversa. Quindi forse può essere un attrattivo per molti che mi stanno sentendo. Non è che sia migliore come scrittore. Penso di avere forme originali di esprimerlo. Comunque, vabbè, io so che forse è un appello in vano. Ma se fra di voi, a parte il nostro caro amico Marco Travaglio, che lui mi sembra che è anche un editore. Quindi Marco, se ci sei, edita il mio libro. Io non batti un colpo perché non ci interessa. No, se vuoi essere disponibile a pubblicarmi, ecco, io non mi faccio scrupoli, mi piacerebbe. Magari con un pizzico di critica sociologica ed antropologica. Poi ho pensato anche di filmarmi o di mandare un sprecher, siccome lo ammiro tanto a Marco Travaglio, insomma, vorrei anche io fare delle letterine. Del telegrammini, delle cartoline, non so. Comunque, se fra di voi dicevo c'è un editore, serio, responsabile, che voglia invertire del denaro in letteratura, ecco che mi contatti. Oppure, già lo hanno fatto degli amici che hanno una televisione, che si chiama questa televisione... Amici, animali e natura. TV, amici, animali e natura, qualcosa del genere. Che gli è piaciuto il mio video, il mio cane giocando con il laser, no? My dog playing laser games. E loro, io gli ho dato il permesso perché usino quel video per un loro programma di video divertenti sugli animali. Se ci fossero fra di voi altre persone che hanno un canale televisivo e vogliano o usare i video che io ho caricato o chiedermi dei commentari, dei racconti, per esempio se avete dei canali televisivi o radiofonici e volete una collaborazione, magari una collaborazione che possa dare più ascolto al mio canale di Spreaker, San Ten Chan, oppure al mio canale di YouTube, San Ten Chan. Più audizione, più ascolti, più... magari potrei anche guadagnare se veramente il mio canale di YouTube avesse molte visioni. E quindi io potrei anche collaborare con televisioni italiane, radio italiane, siti internet italiani professionali. Basta che mi dicano chi sono, che cosa producono, che produzione hanno, racconti, storie, narrativa in generale. Magari, ecco, serve commentare qualche argomento. Mi piace molto la letteratura e ho letto di tutto, come potete apprezzare. E quindi, se qualcuno di voi è interessato a avere collaboratori così, magari che vi mando dei filmati, programmi televisivi, che si parla di... di... di distinte cose, un tutologo, un sunologo... e... beh, io mi presto a... a iniziare delle sperimentazioni audiovisive, radio... e magari anche ci sarebbe da collegarsi e parlare dal vivo, fare qualche streaming... non so, io penso che con questa videocamera filmo abbastanza bene. E poi magari gli farete della edizione al video. Però, ecco, poi bisogna metterci d'accordo per l'orario, su dove si caricherà il video, se posso mettere un link nel mio canale con il video, o magari mi mandate una copia del video, io la carico anche al canale, mi date l'autorizzazione di trasmettere nel mio canale di YouTube quello che andrà in un canale televisivo all'aria o in internet. Ecco, io ve la lancio là. Spero che la raccoglierete questa cosa. Di fare il collaboratore, di assistere a dei vostri programmi, di intercambiare, così come hanno voluto usare per una trasmissione televisiva sugli animali un mio video che ho girato a un mio cagnolino. Non mi resta che da ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto dare dei suggerimenti su come pubblicare degli e-book, degli audiolibri, dei libri digitali... Si sta facendo scuro e devo chiudere la cassa. Quindi, ringraziandovi di tutto, qui termina un'altra trasmissione di San Ten Chan. Grazie agli iscritti, grazie a tutti quelli che mi seguono anche senza essere iscritti. Mi raccomando, votate i video che vi piacciono, suggerite i miei canali di Spreker e di YouTube San Ten Chan a amici, parenti, conoscenti, divulgate i miei video, perché sono disoccupato, come forse molti di tutti voi, ma io avrei sempre voluto essere uno scrittore, perché sento che ho da esprimere qualcosa che forse può interessare qualcuno. Sono già 15 minuti che trasmetto, non voglio appassantire questa nota e sempre ho la distrazione del monitor, perché mi riesco a filmare bene col cellulare. Dopo vorrei fare un tutorial, anche se con ritardo, con l'uscita del cellulare. Però, dicevo, mi distrago invece col monitor, perché dovrei concentrarmi e guardare bene la telecamera. Allora, vi ringrazio di tutto, ringrazio gli iscritti, ringrazio tutti quelli che mi seguono. Adesso il contatore dei visualizzazioni di YouTube si è fermato a 16.000 e passa, però magari poi scatta e va a 20.000. Vi ringrazio tutti gli amici di Spreker che giorno dopo giorno hanno nuovi iscritti e mi ascoltano sempre di più. Io mi domando, chissà che staranno facendo a quest'ora, alle 23.15 in Italia, quelli che mi vedono in YouTube e in Spreker. Qua sono le 19.15 e si sta facendo note. Vi lascio, grazie per seguirmi e alla prossima. Adesso chiudo Spreker. Tic. Adesso chiudo YouTube. Ciao. Ciao Laura Pezzino, ciao Ello Viola, ciao Mimmo Corcione e ciao Marco Travaglio, però mi raccomando, fatti vivo, senti comunicato, rispondimi ai miei video messaggi, magari dalla redazione del Fatto Quotidiano, mandami un link della risposta e poi, per dirci, se proprio vuoi un collaboratore, allora devi chiamare me e... Ciao.